Bentornati su MyFootballJersey. Oggi vediamo la prima maglia del Al Nassar per la stagione 22-23, in versione fan, la maglia ovviamente di Cristiano Ronaldo. La prima maglia del Al Nassar per la stagione 22-23 è prevalentemente gialla, con maniche di colore blu. La nuova maglia di Cristiano Ronaldo è, come era prevedibile, già un pezzo da collezione. Appena messa in vendita negli store del Al Nassar, infatti, la casacca giallo-blu è andata esaurita in poche ore. Dal design non esaltante, riporta al centro del petto lo sponsor Shurfa, un portale per imparare online la lingua araba. Di certo, se la maglia sta andando a ruba, non è per la sua qualità estetica, ma per la popolarità planetaria di CR7, che trasforma in oro tutto ciò che tocca. Cosa ne pensate? Nella mia classifica, devo dire, questa prende solo, tra virgolette, tre stelle. Non è sicuramente una delle mie maglie preferite, però è la maglia di Cristiano Ronaldo e non poteva mancare. Di questa, peraltro, ho già visto la versione player, trovate qui in alto l'accensione. Ci sono un po' di differenze, nel futuro vedrete una comparazione tra queste due versioni. Il costo lo vedete qui sopra? Bassissimo. Su questo non si può dire nient'altro. Vi ricordo poi che trovate in descrizione, qua sotto, un link per ottenere un coupon da 3 dollari e quindi, voglio dire, il costo diminuisce ulteriormente. In descrizione, qui sotto, trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia. Andate sul sito a vedere quali splendide offerte vi attendono. Ora vi lascio alla parte finale nella quale vedrete le misure. Spero che possiate regalarci un like e iscrivervi al canale. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima. Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione fan. Grazie a tutti.